Al via dalla giornata di ieri gli interventi di fresatura e rifacimento del manto stradale sul territorio del comune di Agropoli. Gli interventi per una spesa di 500.000 euro sono stati aggiudicati ad una ditta di Atripalda in provincia di Avellino. I continui lavori di scavo da parte delle diverse ditte, le piogge intense, hanno compromesso in diverse aree e cittadine le condizioni delle arterie, rendendo disagiante il transito dei veicoli. I lavori sono partiti interessando via Malagenia e proseguiranno nei prossimi giorni toccando i diversi punti che versano in condizioni precarie, sia dal centro che dalle periferie. Restituiamo finalmente dignità sulle strade del nostro comune, afferma il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Ho voluto che per prima venisse interessata via Malagenia, che sebbene di competenza provinciale, specie in prossimità dell'ingresso della scuola, versava in cattive condizioni. Proseguiremo sull'intero territorio rispondendo alle istanze dei cittadini e ai rilievi compiuti dall'ufficio tecnico manutentivo del comune. Avremmo voluto farlo prima, ma abbiamo ritenuto di attendere le condizioni meteo si stabilizzassero per poi dare seguito agli interventi.